Fermati un attimo, dacci la possibilità di sentire il tuo dolore e prima di fare il tuo gesto estremo chiamaci. È il messaggio che si può trarre dai cartelli che Voce Amica Sassari ha sistemato sulla ringhera del Ponte di Rosello, luogo prescelto dai suicidi, dalla sua costruzione. Ogni anno qualcuno scavalca o ci prova prima di essere fermato per tempo e la prevenzione dei suicidi è la prima missione di Voce Amica, integrata nella Onlus Telefono Amico Italia, che si rivolge alle persone sole e spesso disperate, alle quali si dà la possibilità di essere ascoltati, di scaricare le oppressioni e iniziare un percorso di risalita. Operatori specializzati che per questa iniziativa sono usciti dai loro uffici anonimi e durante la notte hanno fissato al parapetto del ponte un cartellino da leggere che ha sicuramente incuriosito una moltitudine di passanti. L'imperativo Fermati un attimo invita a proseguire la lettura che inizia come un racconto autobiografico e cerca di immedesimarsi nella disperazione di un potenziale suicida. Solo verso la fine il cartello prova a convincere il lettore a rinviare, seppure per il tempo di una telefonata, la triste decisione, cogliendo quei momenti di incertezza che sicuramente lacerano il suicida prima del suo atto. I cartelli sono stati affissi a decine in modo da incrociare tutti i percorsi. 199 284 284 è il telefono amico che già nelle scorse edizioni dell'iniziativa ha salvato diverse persone, proprio nel periodo, l'inizio della primavera, che miete più vittime di suicidio.